Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Bari questa mattina per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Capologo Pugliese in occasione del centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro a cui è intitolato l'Ateneo Barese. Lo statista democristiano nacque a Maglie nel 1916, dal 1948 al 1964 fu docente di diritto penale all'Università di Bari. Ad accogliere il Capo dello Stato all'Università Barese il Rettore Felice Uricchio con il quale è raggiunto l'altro centrale del Palazzo Ateneo ha preso parte alla cerimonia a cui hanno partecipato tra gli altri figli di Moro, Agnese e Giovanni, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente Merito della Camera Luciano Violante, i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri e Franco Gallo. Un'ordinario compagno civile giuridico politico del quale stiamo parlando ricordando Aldo Moro. Ecco perché ha aggiunto Emiliano la sua presenza all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università che ne porta il nome e una carezza per tutti coloro che hanno giurato fedeltà alla Costituzione cui Aldo Moro su questi presupposti mise mano in modo certamente non secondario nell'Assemblea Costituente. Assemblea Costituente ha sottolineato ancora Emiliano che rimane a mio parere sempre il metodo preferibile per ogni mutamento della Carta Costituzionale che non sia di mero dettaglio attesi i limiti dell'attuale articolo 138 nel momento in cui non sia possibile raggiungere le maggioranze rafforzate previste da detta norma. Le parole insegna la vita politica di Aldo Moro a concluso Emiliano vanno misurate e rese conformi al diritto anche quando non esista sanzione alle violazioni dei doveri imposti dalla Carta Costituzionale. Innanzitutto quello di leale collaborazione che non consiste nella cieca obbedienza ma nel dovere di cercare sempre una soluzione conforme alle regole che salvaguardi i diritti e prerogative di ogni istituzione. Dopo i saluti iniziali nell'altro dell'Atenio Barese dove è stato allestito il palco per l'iniziativa è stato proiettato anche un filmato che ha ricordato alcuni momenti della vita di Aldo Moro.